Una serana! Ehi, è lei! Nell'angolo! Nell'angolo! Ci dedica! Faccio il tiro! Nell'angolo! Nell'angolo! Ecco la! Apparatele! Oh La morte vuole sempre l'ultima parola Dilettanti E' un'abilità che ti va a sopravvivere A cosa serve tutta questa roba? Forse per trasportare materiali pesanti all'interno della montagna Gli antichi costruttori dovevano scavare dei tunnel Intorno ai depositi di roccia troppo dura Gli antichi costruttori dovevano scavare dei tunneli Il perché i predatori attacchino frede più grandi di loro resta un mistero Peggio per lui Quello lì è il peschio di una scimmia o di una persona Dai, brividi Ah, bello Sembra tu voglia procedere Sì Ma come? Con pazienza e tenuto Sì 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 qualcuno ha scelto un brutto posto per cacciare il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo di fronte ai resti di un qualcosa che risale a un migliaio di anni fa. Grazie a tutti. Grazie.